E' una cosa orribile perché poi purtroppo noi ci confrontiamo a Pescara con delle persone perché noi ce l'abbiamo nel DNA già come Abruzzesi, è la curiosità, noi siamo curiosi però a Pescara c'è proprio il fulcro della curiosità io credo che come a Pescara sono curiosi, non sono curiosi da nessun'altra parte basta che il comune di sua sponte alza un tombino così per vedere fare un lavoro e sta subito con lui e lo tubo è fracico là sotto che cazzo te ne frega? che cosa te ne importa? eh? perché devi rompere le balle? io vi giuro l'altro giorno stavo affacciato così su casa e sotto invece un incrocio lì ho visto due macchine che stavano passando uno andava di qua, l'altro di qua si fermerà sicuramente, non ci hanno capito niente tanto per tornare al discorso delle rotatorie insomma lui non si è fermato, quell'altro neanche PAM! uno schioffo terrificante io ho visto lui che scendeva dalla macchina un po' con i dolori ho detto sicuramente se l'ha fatto male scenderò adesso a chiedere se è successo qualcosa non sono sceso perché ho visto che c'era un signore avete vedete quei vecchietti che vanno in giro anche la bicicletta? però no a cavallo, se li portano così, a fianco della serie che cazzo li compra da fa' e così, vanno in giro così e stava passando ho detto, no, non scendo io il signore chiederà sicuramente cosa si è fatto lui si è avvicinato lui dolorante col sangue alla faccia stava camminando zoppicando lui si è avvicinato e ha detto maestro mi dice la bucata è buona se no mi la lira ma sono cose veramente che non si credono eppure sono cose vere Pescara la città che veramente mi affascina una città che tutte le cose nuove le devono mettere dietro a quelle vecchie ma perché? ma mo l'hanno fatta la cosa nuova e nuova? cazzo fammela vedere no arreda quelle vecchie la stazione nuova? arreda quelle vecchie oppa la miseria l'aeroporto nuovo? arreda quelle vecchie eh? l'ospedale nuovo? arreda quelle vecchie l'unica cosa buona che hanno fatto a Pescara ultimamente il nuovo tribunale laddò arredo la carcere preciso sì mi immagino proprio i processi capito? lei è stato condannato tre anni di reclusione vedete dentro l'utubo con un acqua fan in galera come uno stronzo senza passare la via capito? ma stiamo scherzando veramente noi abbiamo una qualità eh? a Pescara fra quella vecchia e quella nuova di stazione si è creata un'area l'area di risulta di risulta sta là è vent'anni che sta là che ci facciamo? non ci facciamo? non ci facciamo qui? non ci facciamo che stato? che cazzo? non lo so che ci facciamo? una volta ci hanno fatto il concerto hanno fatto un concerto un'artista internazionale che aveva il nome uguale al presente indicativo del verbo stale in abruzzese Sting è successa una confusione pronto gioia un'otizia fantastica cosa è successo? Sting alla stazione potete capire? ecco queste situazioni perché in Abruzzo bisogna stare attenti a Pescara a parlare perché purtroppo quando uno parla in Pescarese devi stare attento l'anno dopo hanno fatto la festa della marineria pescarese Santa Andrea che hanno chiamato? Mietta ci stava in manifesto Mietta lo porto ci stava scritto eh no eh no no perché poi ah boh l'avete capito un po' la notare voglio dire cioè la sera ve lo giuro c'ero io non c'era nessuno sotto al palco di Mietta dove sta la gente? tutto affacciato l'umore che fa? paracassietti anche i doni curiosi perché bisogna stare attenti anche a parlare quando c'hai la gente a cena all'estate non puoi permetterti di dire oh passami l'altro olio passami l'altro olio oppure passami l'altro ghiaccio passami l'altro ghiaccio ecco perché si possono creare delle situazioni strane eh Pescara Pescara è una città bella affascinante è una città che questa stazione l'hanno fatta ci hanno messo 40 anni per farla poi ci hanno messo gli specchi come di spicchietti ecco qua ce l'abbiamo fatta grande bella i treni pensate che arrivano al primo piano è una stazione futuristica che non ci crede nessuno l'altro giorno c'è una bicchiarella scusso il Giovanna ho tolipido treno signo sopra e ci chiamo vola che è l'aeroporto ma frega le vecchie se ti affango così non ci crede nessuno veramente eh che poi una volta una volta che entri nella stazione è uguale a tutte le altre la stazione per esempio di Pescara è uguale a tutte le altre ci sta la fondanella l'ha scritta Pescara Lucan Banel tutto uguale ma una stazione per essere una stazione devi avere l'anima quando arrivi a Bologna anche se stai dormendo ti svegli improvvisamente oddio dove sono sai di essere a Bologna perché perché la stazione è un'anima ora in arrivo sul binario 7 il treno Lezzi-Milano ora cambia per Rovigo Padova-Venezia è bellissimo stazione di Pescara bellissima di Nandon che la voca non c'è il campanello uè sta arrivando il treno scusa maestro non lo prendi il treno per Giuliano sei disposto alle trascine io ci sta arrivando perché molti non sanno che bisogna scendere e risalire dall'altra parte fare delle cose strane Pescara Pescara è una città stupenda Pescara io guarda mi meraviglia ogni volta di più adesso sta crescendo è entrato a far parte della nostra città una un'architettura mamma mia che architettura ragazzi lì dove cresceva lì dove c'era il prato verde ora c'è una città lì dove ci stava la Camuzzi ma io sono nato anche l'ubbandone quel grigio anche le rete sopra perché io devo passare là e devo vedere questa costruzione in prospettiva che stanno facendo che poi dico una cosa a me sta cosa guardando la cacosa mi raccordo ma ci potete mettere per esempio due bombe de l'uvas ecco così è uguale capito è uguale perché così uno ricorda che là c'è stata la Camuzzi i nostri figli dei figli come lo fanno a sapere che ci stava là così rimane questo ricordo come naturalmente una volta siamo andati a dormire eravamo tranquilli tutti quanti erano speranzosi di giorno a un certo momento ci siamo svegliati qualcuno distratto non ce l'ha fatto caso ed è più un battaglio improvvisamente una struttura che ha fatto discutere chi la ama e chi la odia sta là da Natale di diversi anni fa e adesso amica mia guardiamo giù dal molo la malinconia rivolti verso il cielo lo so mi dice a Chieti queste cose non le fanno è stata una sorpresa quando l'ho vista a Capodanno che cosa? sul ponte del mare io non posso andare un amico mio ha cominciato a vomitar sembra che si muova tondola leggermente dico come fa a camminarci quella gente ti prego lascia stare lo so c'è molto pelo non dico le cazzate ma lì sopra non ci salgo sembra di cadere chiedo aiuto mi fa male pure l'intestino stammi più vicino comunque amica mia non pensi sia un vantaggio dall'alto puoi vedere le barche di passaggio se passa una paranza stendi una bella canna e peschi un po' di pesce e gratis poi se magna sul ponte del mare io non posso andare un amico mio ha cominciato a vomitar sembra che si muova tondola leggermente dico come fa a camminarci quella gente ti prego lascia stare lo so c'è molto pelo non dico le cazzate ma lì sopra non ci salgo sembra di cadere chiedo aiuto mi fa male pure l'intestino stammi più vicino il ponte del mare del mare grazie sono queste un po' le novità che ci sono in giro dalle nostre parti anche se poi naturalmente facciamo sempre i conti con le solite cose il traffico non si riesce a camminare di qua di là abbiamo problemi purtroppo anche a livello insomma nazionale stanno succedendo tante cose il traffico è congestionato pescara pure si non è da meno lo so purtroppo noi siamo tanti le macchine sono tantissime e quindi si creano anche degli ingorghi non c'è lo so quando capita un autovelox non ci si aiuta tu l'uno con l'altro è normale vedi un autovelox sta arrivando un altro grazie compano capite va bene però ultimamente c'è una lotta sociale di classe io ho visto per esempio quelli che la panda che a quelli che la mercedes no no la mercedes vanno finta di niente vanno finta di niente tranquillo capito c'è una lotta praticamente intestina e non sappiamo più come fare a pescara devo dire non è facile portare la macchina perché a pescara soprattutto la riviera nord dalla parte del mare si fa footing dalla parte qua si fa footing ed è pericolosissimo perché ci sono questi qua che tu non sai davanti che ci sta un maniaco che vanno trovando capito la femminuccia capito che appena ne vede una o di quanto è buona chi lì fa l'inversione a u e pum certi scioffi allora dovrebbero segnalare dietro come fanno quelli che non zanno portare la macchina io non so portare la macchina sto facendo scuola guida dietro c'è il cartello scuola guida attenzione prendetevi un po' di spazio oppure sono un principiante un privatista dietro sta scritto principiante privatista foglio rosa dovrebbero fare un'altra targa pu puttanir perché sono pericolosissimi e se non se ne accorgi va schiuffà e ho voluto fare una canzone brasiliana guarda caso che fa più o meno così vai sto davanti sto davanti c'ho la punta i principianti se sei dietro dietro tu rinneghi tutti i santi se sei dietro dietro i santi tu rinnegherai davanti a me c'è questo cretino che tra le tasca la frena e non si sa perché mannaggia son dalla sua guida è proprio strana probabilmente sta cercando una punta con la testa con la testa gira a sinistra e a destra per vedere vedere qualcuna fu un bel sedere e se si blocca mi botto io mi ritrovo tutto se sulla riviera di sera non si può più circolare grazie 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 grazie